Siracusa sorpreso a Bighellonare, aggravamento di misura cautelare per un siracusano 24enne. Sorpreso numerose volte fuori dalla propria abitazione dove era sottoposto all'obbligo di timore, agente delle volanti ricostruivano le condotte illecite del predetto a Bighellonare in città in compagnia di amici. Nella giornata di ieri il personale della sezione volante dell'Ufficio di Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha dato esecuzione a un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare messa dalla Corte d'Appello di Catania nei confronti di un siracusano di 24 anni. Il giovane in atto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di timore con prescrizione è stato sottoposto alla misura più afflittiva degli arresti domiciliari.